l'incontro di questa sera è dedicato a decolonizing classics come dicono gli americani cioè decolonizzare i classici ma che cosa e come sapete questo fenomeno della decolonizzazione dei classici si iscrive in un movimento più ampio che è nato negli Stati Uniti e poi si è steso anche abbastanza l'Inghilterra che è quello il cosiddetto della cancel culture cioè un atteggiamento verso il passato che tende a rimuovere simboli nomi personaggi che nel passato hanno esercitato ruoli particolarmente negativi nei confronti della società e che soprattutto il cui comportamento urta con i parametri che sono oggi considerati giusti saggi e civili per una società e quindi la rimozione per esempio di statue di generali sudisti che hanno cioè comandato un'armata che difendeva la pratica della schiavitù negli Stati Uniti oppure addirittura la cancellazione di nomi che rimandano a quella fase sempre negli Stati Uniti per esempio nella città di San Francisco sono stati eliminati i nomi di una quarantina di scuole 44 scuole che erano intitolate rispettivamente a George Washington a Lincoln e a Thomas Jefferson quindi tre padri della patria americani i cui nomi vengono cancellati dalle scuole pubbliche di San Francisco perché hanno rappresentato comunque una cultura di tipo schiavista ora questo avviene a San Francisco che è una città sempre molto più avanzata rispetto ad altri degli Stati Uniti però è indicativo di di una forte contraddizione che si apre no perché è come se appunto a un certo punto decidessimo di eliminare tutte le vie Garibaldi in Italia perché eh Garibaldi ha fatto queste e queste insomma eh non è una cosa da poco eh la stessa Università di di Berkeley che io conosco abbastanza bene per averci insegnato a lungo ha operato anche lì una serie di di rimozioni insomma si direbbe sanitizing in inglese ha sanificato diverse sale sempre appunto intitolate a Washington e ad altre in particolare mi ha colpito il fatto che il dipartimento di antropologia dove io sono stato tante volte a studiare perché hanno una bellissima biblioteca e che è intitolato a Alfred Louis Kreber grande antropologo tedesco emigrato negli Stati Uniti e uno dei fondatori dell'antropologia americana gli hanno cambiato nome non si chiama più Kreber Hall perché Kreber aveva messo su una collezione di eh reperti di nativi americani ha messo su un museo antropologo e questo è stato considerato appunto contrario ai diritti offensivo nei confronti dei diritti dei nativi americani quindi tornare in avanti andando a Berkeley non si va più a studiare a Kreber Hall ma in un'altra Hall che non so come attualmente si chiama ecco questo diciamo è un movimento generale degli Stati che c'è negli Stati Uniti all'interno del quale si colloca anche quello di di cui parliamo stasera cioè di colonizing classics messo in moto soprattutto da un intraprendente professore dell'università di Princeton che si chiama Danel Padilla che è un professore di origini dominicane il quale ha sostenuto sostanzialmente che l'insegnamento di classics dovesse essere o abolito o fortemente ridotto nelle università in quanto la cultura classica è stata sinonimo di suprematismo bianco razzismo e discriminazione questo ha suscitato un grandissimo dibattito in America di fatto però alcune università hanno come dire reagito anche attivamente a questo impulso per esempio la stessa università di Princeton ha aperto dei corsi di classics in cui non si insegnano più le lingue in cui si e soprattutto ci sono determinati accorgimenti nella scelta dei testi non si leggono certi testi per esempio che possono offendere il pubblico femminile in quanto si parla di violenze di stupri e quindi buona parte del metamorfosi di Ovidio per esempio che sono basati su questo molta parte del mito greco episodi come quello di Lucrezia vanno trattati con le molle come si dice con un trigger warning cioè con un avvertimento attenzione perché questo può fare male il trigger warning è quello che si mette prima delle serie Netflix quando si dice vietato è insomma sconsigliata la visione ai ecco molti di questi testi classici ricevano un trigger warning perché potrebbero avere contenere diciamo elementi offensivi per la sensibilità contemporanea ciò detto io non non mi sento di giudicare tutto ciò un capriccio una stupidaggine una follia collettiva come vedo che spesso avviene però nelle reazioni continentali e anche italiane per un semplice motivo perché noi non siamo gli Stati Uniti volevo dare qualche dato come dire per stabilire il tono si dice in inglese cerchiamo di capire dove ci muoviamo allora gli Stati Uniti hanno 329 milioni di abitanti i cui i neri sono 46 milioni i nativi sono 5 milioni gli ispanici 40 milioni quindi ci sono 20 milioni di di bianchi e 200 milioni di bianchi e 200 e cento e passa milioni di altri allora i 46 milioni di neri a cui da nel padiglia si rifà direttamente sono discendenti di schiavi liberati come sapete nel 1865 quindi grosso modo quando si faceva l'italia ecco gli americani liberati liberavano gli schiavi il che vuol dire che questa liberazione poi è avvenuta sì ma come voi sapete per tanti aspetti ancora in corso la discriminazione in certi stati è durati fino agli anni sessanta del novecento e ancora oggi si conoscete meglio di me i casi di neri che sono uccisi dalla polizia per il semplice fatto di essere neri insomma se si è nero si ha cinque volte più la probabilità di finire in prigione che se si è bianchi cioè dietro a questa pressione a volte sconsiderata intendiamoci è questa pressione verso il cancere è più in piccolo il decolonizing c'è un problema sociale molto forte da un lato una pressione di neri che continuano a sentire la loro esclusione o semi esclusione nella vita politica dall'altro un sentimento di rimorso da parte di alcune elite soprattutto bianche le quali si provano colpa provano per i loro antenati allora è questo il contesto in cui mettere il fenomeno di cui ci occupiamo non altro è chiaro che trasferire in italia o o in francia un fenomeno in spagna un fenomeno del genere avrebbe poco senso perché mancano questi elementi di pressione sociale di base quando daniel padiglia dice classic se suprematista e discriminatorio vuole anche dire non ci sono professori neri di classic che è vero sostanzialmente sono molto pochi io nei miei anni di insegnamento a berkeley e ci ho insegnato dal 92 a pochi anni fa ho avuto una studentessa giamaicana bravissima ma non nera americana e poi occasionalmente un nero che voleva studiare classics per diventare pastore e che però era molto più reazionario di me e quindi non andavamo d'accordo perché riteneva che io con l'antropologia guastassi classics e questa è stata la mia esperienza di presenza di neri nelle mie classi mentre ho avuto esperienza di chinese america di japanese america di tante altre tecniche e quindi come dire il problema è un problema complesso che va affrontato prima di tutto secondo me a partire da una base sociologica e concludo anche con altri aspetti della società americana che si tende in genere a ignorare ma qui prendo da un piccolo saggio molto bello di Ian McEwan la fine del mondo un saggio sul millenarismo in cui lui dice in america il 90 per cento si ritiene certo dell'esistenza di dio il 53 per cento è creazionista il 44 per cento sostiene che gesù tornerà a giudicare i peccati quindi aspettano la venuta di gesù e il 12 per cento è evoluzionista quindi il fatto che poi nelle scuole il creazionismo non venga quasi più insegnato è dovuto al fatto che certe elite quelle stesse probabilmente che provano poi rimorso per quanto avvenuto nel passato hanno fatto sì che i programmi non rispecchiassero effettivamente la il sentire comune perché altrimenti con il 53 per cento di creazionisti il creazionismo sarebbe insegnato anche a scuola ecco e infine bisogna ricordare che soprattutto negli stati del sud il il passaggio di genesi 9 24 27 quello in cui non è ubriaco viene visto nudo da camma e quindi cam riceve la maledizione da noi viene detto camma e canaan tu sarai servo dei tuoi fratelli è preso seriamente come una maledizione che no è e quindi dio avrebbe inflitto su camma cioè l'antenato dei neri e quindi starebbe scritto nella bibbia che i neri devono essere schiavi dei bianchi questa è una cosa che venivano insegnate fino a non molto tempo fa nella nelle scuole diciamo nelle scuole domenicali cosiddette degli stati uniti per cui ci troviamo di fronte a una cultura che effettivamente è molto diversa e che nella sua massa soprattutto è molto diversa anche se poi le elite new yorkesio di san francisco ci rassomigliano molto di più ma ma non è così di fatto e i problemi sociali dietro sono molto più complessi in questo quadro noi dobbiamo cercare di collocare anche di colonizing classics e dire chiaramente che non siamo d'accordo cioè che cancellare una parte della cultura classica o dimenticarla del tutto perché è stata una cultura suprematista eccetera eccetera beh è un atteggiamento sbagliato è diverso il modo deve essere diverso il modo in cui noi guardiamo a questi fenomeni però non possiamo nemmeno fare finta che non ci siano ecco questo diciamo è la prima parte delle mie riflessioni adesso cedo volentieri la parola al mio amico e compagno Luigi Spina ecco allora intanto il piacere di ritornare soprattutto con Maurizio di rivedere in presenza tanti amici e tante amiche allora io riprendo la discussione appunto abbiamo pensato una forma proprio di riflessioni ad alta voce e su due punti non ignorando per un certo punto ci arriveremo sul fatto che quando abbiamo pensato a questo tema non avremmo mai immaginato di parlarne in presenza di alcune forme di cancellazione europee eh sopravvenute in seguito alla guerra pensiamo alla alla vicenda e penso che parleremo anche di questo ma naturalmente molto sommessamente e eh senza pontificare come in genere si fa io volevo appunto sviluppare due punti il primo che diceva già Maurizio cioè perché noi non dobbiamo a nostra volta cancellare questo problema come se fosse appunto lui diceva è stato accolto con sufficienza a volte si è parlato espressamente di barbarie americana cioè dice lì in fin dei conti hanno sollevato questo perché appunto mentre loro cominciavano a eh affacciarsi alla civiltà noi già avevamo secoli di storia quindi non dobbiamo a nostra volta cancellare questo problema cioè annullarlo e rivendicare una sorta di supremazia intellettuale o di cultura o di civiltà che ci ha consentito di eh studiare e propagandare e fare andare avanti classici per tanti secoli la seconda cosa è cercare questo potrebbe essere forse più capzioso e sofistico di individuare in questo stesso atteggiamento della tentativo di cancellare decolonizzare eccetera dei riflessi delle stesse culture antiche che si vogliono cancellare allora sul primo punto cioè perché in linea di principio non bisognerebbe mai cancellare ma eventualmente affiancare criticamente io ricorro a una delle mie fissazioni che prendo dal mondo classico cioè la individuazione di una sorta di quattro operazioni che troviamo per la prima volta in Platone poi la seconda volta nella cultura romana in quintiliano sviluppate bene la cosiddetta quadriperfita ratio applicate alla lingua ma sostanzialmente anche al discorso e volendo a molte forme delle manifestazioni umane cioè le operazioni dell'aggiungere del sottrarre del sostituire e del cambiare di posto le dico in latino adiexio detraccio in mutazio e transmutazio allora la detraccio cioè la cancellazione la sottrazione che cosa fa sostanzialmente toglie un elemento sul quale si potrebbe anche discutere criticamente mentre un'altra operazione è un po' un po' va insieme con la sostituzione cioè io metto qualcosa al posto di un altro quell'altro sostanzialmente non c'è più c'è invece un'operazione che è molto più proficua e utile che è quella del cambiamento di posto che io etichetterei per quello che ci riguarda come il cambiamento del punto di vista cioè accettare il fatto che non c'è un unico punto di vista come non c'è stato probabilmente mai sulla storia dei classici e sui temi che i classici ci trasmettono che sono i temi delle culture che li sviluppavano li vivevano e li lasciavano scritti il punto di vista cambia e non cambia uniformemente nella stessa epoca cambia in forme diverse nelle varie culture che si sviluppano anche nella stessa epoca e che in questo momento rispetto ai temi dei classici c'è una cultura parte della quale ha fatto bene Maurizio a ricordare che ci sono state anche delle risposte nelle stesse università in cui nascevano questi movimenti di rivendicazione di altri modi di affrontare il problema quindi il modo di affrontare il problema attraverso lo spostamento del punto di vista consentirebbe di mettere a confronto e di affrontare criticamente che cosa è avvenuto nella trasmissione dei testi classici nelle varie epoche evidentemente che noi non difenderemmo mai la supremazia e il valore ad esempio dell'impero romano come fu gestito durante il ventennio fascista è una cosa che già abbiamo fatto probabilmente abbiamo cancellato qualche nome di qualche studioso è stata una sfortuna forse quello studioso aveva anche qualche elemento che potremmo approfondire e come dire trasformare in qualche cosa di utile ma l'operazione appunto del cambiare il punto di vista del trasportare quella tematica in altre forme di analizzare quindi criticamente mi sembra l'operazione con la quale non dico soltanto noi diciamo che facciamo questo per mestiere ma in generale la cultura l'intellettualità europea dovrebbe rispondere a queste forme quindi riproponendo invece forme di confronto che accettano i motivi dai quali nascono queste proteste queste forme di cambiare le forme di insegnamento mettere in guardia quindi in questo non essere d'accordo sulla cancellazione e tentare di proporre in positivo invece forme diverse di cambiamento di punto di vista poi ricorderò anche perché questo fa parte anche della storia degli stati uniti ci sono stati momenti non lontanissimi nei quali il riferimento al a una parte della cultura dei classici è stato portato avanti per esempio anche dalle comunità nere e dopo lo di no nel secondo intervento Martin Luther King per esempio il secondo aspetto è quanto di questa pretesa di cancellare possa provenire anche da forme di cultura anche avanzata e progressista legata alla cultura antica allora io un po scherzando penso che per esempio uno delle massime che ci sono arrivate nella forma latina ma che hanno un retroterra come che troviamo nel nel libro mai abbastanza lodato di Renzo Tosi sui proverbi greci e latini è amicus plato sed magis amica veritas che io direi un po è il manifesto del politicamente corretto c'è molto di politicamente corretto alla base dell'idea della cancer culture cioè c'è molto dell'idea che bisogna trovare una forma precisa giusta la più vera alla quale si sacrificano anche tutti quegli elementi dinamici di contraddittorietà che caratterizzano il reale allora è vero che la verità deve essere più amica di tutto ma perché sacrificare un'amicizia alla verità perché non dovrebbe essere un valore quello che dal momento che la verità non è poi un valore riconoscibile da tutti quindi già quest'idea di veritas che ci viene dall'antico insomma un po diciamo secoli di pensiero hanno cercato di metterla un po in discussione ma perché dovrebbe essere vero affermare questo assolutismo al quale sacrificare tutta un'altra dinamica di pensieri sentimenti sensazioni ecco questa idea che si debba fare un processo percorrere un cammino alla fine del quale si può anche affermare la veritas e casomai come dire confessare all'amicus o all'amica che in quel momento lo si è messo da parte perché c'è qualche cosa che è molto più importante ma dopo un processo di discussione di confronto di arrivare a delle soluzioni almeno condivise ecco questo elemento allora della correttezza della solutismo non è estraneo alla cultura nella quale sono stati educati anche professori e colleghi come Padiglia o altri intellettuali e pensatori del mondo antico anche pensatori neri cioè forme che si sono accumulate sentite o interpretate in qualche modo che hanno determinato questi aspetti cioè sono almeno insomma un po di anni e decenni che le culture nel mondo si intrecciano non soltanto da quando ci sono i social delle comunicazioni quindi riconoscere anche elementi probabilmente negativi che hanno influenzato queste forme di assolutismo sarebbe come dire un modo di rimettere in discussione le giuste pretese da cui nascono che appunto sono legate anche ad analisi di tipo sociologico ma individuano un metodo che può essere legato può essere utile anche in situazioni sociologicamente e politicamente diverse quindi io direi che questo dovrebbe essere anche io mi fermo qua per quella c'è la parola a Maurizio una sorta di metodo di discussione perché adesso ancora ne siamo abbastanza lontani poi ripeto qualche parola su sul come in questo momento anche noi noi in generale in Europa si stanno cancellando molte cose e ci dovrebbe far pensare però quando arriverà agli studi classici anche europei un po questa ondata dovremmo essere pronti a rispondere in qualche modo grazie Gigi io continuo su questo pedale un po più più generale diciamo per poi focalizzarmi di più sull'aspetto dei classici e del problema della decolonizzazione dei classici il fenomeno in cui ci troviamo di fronte però secondo me un fenomeno estremamente complesso che ha tante componenti una l'ho indicata prima ed è il senso come dire del risentimento da un lato e il senso del rimorso dall'altro che però è più caratteristico delle società americane poi però c'è un altro aspetto della società contemporanea che credo giochi molto in questa vicenda e che molto mi colpisce e cioè la crescente importanza delle identità l'identità il concetto lo stesso di identità il modo di interpretare la società il mondo attraverso le identità ovvero le culture che spesso però sono un po sinonimiche le due cose come un tempo si diceva razza oggi si dice cultura insieme a identità ecco questo modello si sta come dire propagando e faccio qualche esempio fino io mi sono sempre occupato di come qualcuno sa di questo problema dell'identità ne ho ricevuto anche una esplicito proprio diciamo a parte del professor malastin una volta mi hanno dato una specie di letteraccia però insomma è un mio interesse è antico è in passato diciamo vent'anni fa fa più o meno quando cominciavo a curvarmi queste cose e i gruppi identitari erano sostanzialmente su base locale regionale esistevano identità di carattere appunto identità veneta identità lombarda oppure l'identità più circoscritta di un piccolo paese di una piccola comunità oppure identità più grandi anche tra tragiche come l'identità serba che ha prodotto come sapete stragi di ammazzamenti insomma però erano identità di questo tipo adesso il concetto di identità si sta ulteriormente sviluppando e per esempio si è sviluppato molto forte una nozione di identità gay che prima non era così visibilmente strutturata così come si sta strutturando anche una nozione questo è un buon paradosso l'identità di genere non strutturata che però anche questa sta assumendo addirittura voleva prendere forma di legge in un certo senso questa identificazione appunto di non di non genere di fluidità diciamo così come un'identità sempre più forte è assunta anche dall'identità femminile che è abbastanza paradossale il fatto che la donna molte donne tendono a porre la propria identità in termini di minoranze quando in realtà numericamente non sono affatto delle minoranze come sappiamo però si configurano come minoranze o minority perché in effetti subiscono alcune discriminazioni alcune ingiustizie e quindi si è fortemente rafforzata questa identità antitipo femminile fino a delle forme addirittura un po impressionanti e qui cito due casi che mi hanno molto colpito legato legati alla quella poetessa afroamericana che si chiama amanda gorman che è diventata impresamente famosa perché alla incoronazione diciamo di biden recitò una poesia che diventa immediatamente celebre che tutti hanno subito dimenticato naturalmente perché questa è la celebrità dei media dei social e che però ha reso amanda gorman per un certo periodo una star tant'è che molte case editrici volevano tradurre le sue poesie in generale allora è accaduto per esempio che un editore catalano voleva tradurre le poesie di amanda gorman affidandole a un traduttore molto sperimentato dall'inglese victor obiolz il quale però è stato rifiutato da viking books che è l'editore di amanda gorman perché perché è maschio e perché è bianco avere per tradurre amanda gorman ci sarebbe voluta una donna e nera la stessa cosa è successo in olanda anche qui c'è stata una reazione delle attiviste perché la questa signora rineveld non era nera non era attivista politica era una donna ma non era attivista politica e non era nera allora questo è il paradosso dell'identità come dire l'identità è talmente forte che si riverbera addirittura sui testi che uno ha scritto e nega uno degli assiomi fondamentali di chiunque abbia studiato la linguistica all'università che è quella della traducibilità dei linguaggi se tutte le lingue sono sostanzialmente traducibili in un'altra salvo che ideologicamente non ci si voglia mettere una barriera di carattere puramente ideologico identitario che è quella della caratteristica femminile nera e addirittura dell'ideologia politica l'attivista a questo punto il traduttore non è più qualificato è un fenomeno molto impressionante questo il che ti dà l'idea che effettivamente viviamo in un'età che già al vecchio harold bloom definiva l'età del risentimento the age of resentment cioè c'è come un risentimento progressivo fra i gruppi che si distinguono si si separano si oppongono si vogliono differenziare ecco concludo dicendo tutto ciò è assolutamente paradossale in un'epoca che parla solo di diritti umani ci fosse una volta che qualcuno parla di uomo in questi casi cioè la caratteristica umana comune c'è no ci dovrebbe essere sì tutti parliamo di diritti umani ma diritti umani in realtà sono diritti di certe comunità identificate questa è in realtà l'interpretazione che si dà oggi diritti umani si ritorna al vecchio de maestro che non è caso era un grande pensatore reazionario il quale diceva io ho visto dei francesi ho visto degli inglesi ho visto degli italiani ma non ho mai visto un uomo perché lui era contro le zone qua le donne della rivoluzione francese secondo me si sta ritornando a questo io ho visto ho visto dei neri ho visto dei gay ho visto delle donne ho visto dei veneti però non ho mai visto un uomo ecco no invece sono gli uomini quelli che contano è per l'uomo che bisogna lottare però ecco tutto questo diciamo conflittualità latente tra i gruppi eccetera è chiaro che poi finisce anche in atteggiamenti come la cancel culture perché perché ci si identifica ci si scontrappone a qualche altra cosa quindi quello che viene meno poi il dialogo in questi casi perché l'identità se c'è una cosa che impedisce è il dialogo l'identità esclude non vuole incorporare non vuole interpretare eccetera quindi io direi che anche questa è una cornice in cui noi dobbiamo se vogliamo capire il fenomeno dobbiamo iscrivere questi due aspetti che ci interessano oggi pomeriggio io volevo riprendere questa questo accenno che facevo al fatto che ci sono stati momenti nella storia anche della della cultura americano statunitense e anche abbastanza recenti nei quali il riferimento a testi o momenti di cultura classica è stato importante se non fondamentale e quindi in qualche maniera come dire dovrebbe venire quasi spontaneo l'invito da parte di chi mette in discussione in maniera così globale la capacità dei classici di trasmettere ancora se non altro pensieri su cui riflettere inviterei a prendere in considerazione questi momenti faccio riferimento in particolare a quella che potremmo chiamare l'era dei kennedy quindi gli anni sessanta grosso modo e a qualche cosa di molto più recente nell'era dei kennedy ci sono due fatti molto importanti uno legato proprio alla inaugurazione prima si parlava della della poesia all'insediamento di biden quando si insediò john kennedy un famoso poeta americano robert frost presentò una poesia che ebbe varie vicende perché la poesia che aveva preparato non pot non poter leggerla perché c'era un sole accecante un vento che faceva volare i foglietti ma in ogni caso il modo col quale fu presentata fu presentato l'insediamento di john kennedy fu quello di parlare di una nuova età augustea ponendo anche un problema di dialettica solita e mai risolta fra roma e atene come modelli perché nella cultura americana dell'epoca uno dei modelli della democrazia era ovviamente quello ateniese o pericleo per così dire e queste tracce si trovano anche in molti dei discorsi di john kennedy ma questo fu un esempio c'è il fatto che in un momento importante della cultura della politica americana si faceva riferimento a un modello per la nuova età augustea l'altro momento ancora più importante il decisivo fu il 4 aprile del 68 quando cioè si ebbe notizia dell'assassino di martin luther king e bob kennedy si trovava a fare un comizio a minneapolis e gli sconsigliano di parlare e bob kennedy volle parlare c'è un filmato che ogni volta che lo vedo insomma sono davvero brividi reali e a un certo punto in questo discorso preparato e poi fatto a braccio in cui a un certo momento bob kennedy è un momento diciamo di calo di memoria davanti a una folla di neri ai quale kennedy deve dire che è stato assassinato il loro leader e dice che lui ha avuto lo stesso problema per un fratello assassinato da un bianco a un certo punto cita la gamenone di estilo che è una cosa assolutamente sconvolgente cita una versione sulla quale si discute perché è una traduzione quindi a suo tempo feci queste ricerche ma è impressionante pensare alla luce del discorso attuale il fatto che un candidato alla casa bianca della famiglia dei kennedy dinanzi a una folla di neri citasse la gamenone di eschilo per l'idea appunto del come si reagisce a un dolore come si si subisce poi si riparte perché aveva alle spalle una cultura in particolare si parla di un libro della hamilton the greek way che era molto legata a questa immagine forse anche edulcorata e classicizzata dell'atene della grecia questi quindi sono due momenti certo sono ancora gli anni 60 gli anni durante i quali la condizione dei neri è ancora molto drammatica ma se siete appassionati di musica in particolare di jazz trovate che in questo periodo si sta preparando un'opera di jazz quindi un'opera musicale di jazz da parte di un famoso esponente del jazz Wayne Shorter un sassofonista è una bassista molto giovane esperanza spaulding sulla ifigenia in aulide lei sono tutte e due neri allora l'idea che ci sarà un momento nel quale gli americani andranno a teatro e vedranno questa ifigenia anzi sentiranno ascolteranno questa opera ifigenia in aulide è un momento che fa pensare perché probabilmente se fosse stata cancellata oltretutto la vicenda dell'ifigenia è una delle vicende più drammatiche perché è alla base di il sacrificio di una di una ragazza della successiva uccisione del padre della ragazza nonché della uccisione della madre della ragazza da parte dell'altro figlio detta così per non fare nomi e se ci pensate è una delle vicende più più drammatiche e però questo continua allora come dire distinguendo e probabilmente ci sono anche due modi di vita dei classici uno è quello che nelle università e forse alla fine dovremmo rispondere anche noi a decolonizzare da chi probabilmente anche qualche responsabilità di colonizzazione c'è nell'università anche italiana però c'è anche una diffusione di questi modi di questi testi di queste storie che riesce ancora ad esistere faccio solo allora questo riferimento lo faccio io poi penso che anche Marizio voglia dire qualcosa sul perché da da qualche giorno l'idea della cancellazione e sia venuta anche partita dall'Italia dalla Bicocca su momenti della storia della cultura russa il tema lo affronto senza entrare nel merito ovviamente di posizioni o idee personali ma come analisi appunto per distinguere per capire e lo faccio in particolare a Torino perché a Torino c'è la biblioteca di testi russi di un carissimo amico scomparso Giovanni Mastroianni da qui nel nel dipartimento della adesso mi sfugge il nome della della professoressa di russo lo leggo perché non non posso non dirlo che la la Daniela Steila quindi c'è questa nel dipartimento c'è la biblioteca di testi russi di filosofia russa di Giovanni Mastroianni che è stato professore ad Arcavacata e è ovvio che anche qui bisogna distinguere perché come dire al di là di urgenze forse anzi sicuramente sbagliate e è successo quello che succede con la cancel culture cioè c'è anche un moto di paura c'è un moto per il quale la conoscenza di qualcosa può influenzare o può corrompere che è un po' il discorso che nasce conoscere non significa necessariamente accettare questo va va rivendicato è ovvio che le sanzioni le soluzioni politiche per cui espressioni politiche non si possono più accettare se si dà un giudizio di invasione e non di altro e questo si può spiegare però probabilmente va anche in questo caso distinto cioè va detto che io ho parlato di corridoi culturali cioè non è possibile che si faccia lo stesso errore di mettere in un unico calderone una risposta che è politica a livello statale eccetera che ovviamente come dire penalizza chiunque condivida operazioni politiche o scelte politiche ma non si può per questo coinvolgere in tutto questo una cultura che è un po' sostanzialmente il riflesso che abbiamo appunto qua vicino e che probabilmente continuerà e sul qua non dico più niente ma ripeto appunto l'invito è semplicemente a quello di distinguere di non urlare e schierarsi immediatamente ma di tentare ogni volta di distinguere quindi mi fermerei anche qui poi alla fine ci faremo la domanda sul decolonizzare da chi vorrei adesso prendere un esempio concreto perché i classici se non altro ci insegnano sempre a ragionare su esempio l'oratore antico lavorava per esempio ecco ne prendo due uno o meglio faccio una premessa la schiavitù antica tutti conosciamo questo fenomeno che ebbe un'importanza enorme in tutte le società antiche è praticamente condiviso da tutte le società antiche non c'è stata in pratica nessuna voce che si sia mai levata contro la schiavitù dicendo è contro la natura la prima voce che si ode è Gregorio di finissa abbastanza plevilmente con un argomento teologico ma semmai ci sono stati filosofi che hanno cercato di giustificare la schiavitù non certo di condannarla e comunque tutta la società antica greca e romana senza la schiavitù non sarebbe esistita crollerebbe è un fenomeno che capisco quando uno è discendente di famiglia di schiavi e va a studiare una cultura di questo tipo può trovarci qualcosa che lo urta indiscutibilmente allora prendiamo due esempi la la sesta satira del secondo libro di Orazio è quella in cui Orazio lascia a Davo la Libertas Decembris e si fa fare una lunga predica cioè tu sei così e tu fai quello e sei incostante prima dici sto a casa poi sei mecenata e ti invita a cena corri e vai su insomma si fa fare la predica alla fine Orazio si secca un po' di questo gli dice guarda smettila perché altrimenti io ti mando a lavorare con gli schiavi nella nel podere della Sabina ora la condizione dello schiavo di campagna era la più crudele che potesse capitare lo schiavo che lavorava in campagna era sicuramente quello che stava peggio e quello che Varrone classifica come instrumentum vocale cioè lui dice ci sono tre tipi di strumenti per coltivare i campi lo strumento muto che sarebbero i carri e gli altri centricoli lo strumento semivocale che è il bue e lo strumento gli animali in generale e lo strumento un vocale che sono gli schiavi sono gli strumenti allora se voi andate a guardare un commento classico non dico l'autore però a questo passo la conclusione della Satira propone il contrasto convenzionale fra la vita facile dello schiavo di città e quella dura dello schiavo di campagna che era già espresso nella mostellaria di Plauto cioè come dire è l'unica osservazione che si fa non è che improvvisamente si apre davanti uno spaccato per cui il buonissimo razio è un tale che poteva permettersi in uso di prendere uno schiavo di sbattere nel campagna e di fargli fare l'istrumento vocale no si fa il riferimento a un altro test dove compare un topos simile e lo stesso se voi prendete il perso di Plauto si apre immediatamente con una serie di battute sulla botte le legnate che si prendono gli schiavi per esempio uno schiavo dice all'altro un po' di tempo che non ti vedo c'è beh ho avuto da fare ho avuto un negozio dice un negozio un ferre un era un negozio di ferro e si dice più di un anno fui preferratus apud molas tribunus vapularis sono stato incatenato alla mola come tribuno vapulare gioco di parole su tribunus militaris perché vapulo in latino vuol dire prendo botte quindi sono stato lì come tribuno piglia botte e così si continua con queste battute sulla sui supplizi corporali che toccano allo schiavo quello che è furcifer che tu che porterai addosso la croce e prenderai le ulme catapulti cioè ti arriveranno delle mazzate di olmo sulla schiena che te la spaccheranno cioè ora francamente tutto questo se voi andate a guardare le note beh ci trovate che tribunus vapularis brillante invenzione linguistica plautina lo è però pensiamo anche che questa è una società che a quanto pare si diverte ride nel sentire che gli schiavi venivano torturati presi a botte incatenati alla mola eccetera che cosa ci succede a noi che cosa è successo anche a me che hanno studiato per tutta la vita flauco avviene quello che berson chiamava l'anestesia di cuore l'anestesia del cuore l'anestesia del sentimento uno non ci pensa più che queste sono cose che hanno questo risvolto profondamente crudele e ingiusto e inumano no sono testi c'è scritto far ridere anzi quando ho fatto questa stessa questo stesso discorso proprio a torino al festival del classico uno studente si è alzato a me dice vabbè dice ma anche nei cine panettoni scusate l'espressione ci sto citando anche nei cine panettoni si danno delle calci nelle palle per far ridere io non ho detto niente perché mi sembrava sarebbe stato come dire dire ma lei non ha proprio niente di meglio da dire ecco sarebbe stato forse troppo però rivela a parte la sciaccaggine diciamo delle osservazioni rivela una profonda incapacità di capire anche anche il problema cioè noi ci troviamo di fronte a un tipo di comicità che ride sul sul supplizio allora a questo punto che cosa si fa uno secondo me bisogna notare questa che io chiamavo anestesi di che potrei chiamare anche anestesi classicistica cioè la lunga la durata diciamo la lunga assofazione a questi testi per cui non si percepiscono più questi sfondi che ci sono profondamente crudeli e inumani la seconda secondo problema però qual è non si legge più plauto non si legge più orazio eccolo il punto è qui secondo me deve scattare la seconda fase della riflessione che è quella di trasformare tutto ciò in una domanda e perché ridono in questo modo che idee hanno del corpo dello schiavo possibile che ne facciano un oggetto di riso sì e se lo fanno allora la cultura che c'è intorno come funziona quando si parla di humanitas dei romani di cosa parliamo ecco se però noi semplicemente non leggiamo più plauto oppure spurghiamo queste linee come si faceva una volta nei libri di scuola ma eliminando le frasi e scene dalla caturlo ecco noi semplicemente non capiamo più niente è questo che secondo me è pericolosissimo e il fatto che si parli proprio di cancel caccia non ci dimentichiamo che cancel è il latino cankellum il cancello cioè la griglia la metafora viene dal fatto che lo scriba quando aveva sbagliato una parola ci faceva sopra delle righe orizzontali e delle righe verticali e quindi si faceva sopra una griglia la griglia è la prigione la griglia la censura noi non vogliamo la griglia questo no non vogliamo la censura noi semmai vogliamo capire però dobbiamo avere anche il coraggio di rinunciare all'anestesia del cuore all'anestesia classicistica insomma dobbiamo rivedere con coraggio anche noi questi testi per ridiscuterli perché perché diventino un'occasione di riflessione non un'occasione di rimozione e questo forse grande equivoco in cui cade e così parlando tu parlavi dei russi poi ti restituisco subito la parola ma quando noi leggiamo gogo le anime morte ma non è uno scherzo cioè questa è una società che è ancora fondata sul servaggio e sul sui servi della gleba e se lui scrive queste cose e altri grandi scrittori dopo di lui scrivono queste cose meravigliose che stanno nella biblioteca che dice bisogna anche però pensare che tutto ciò viene fatto perché c'è una grandissima perdita di libertà di milioni di esseri umani in russia che sono governati da chi pensa che il progresso si realizza attraverso il servaggio della maggioranza degli abitanti di un paese ecco ma anche questo però che si fa si smette di leggere globo non si legge più dostoevsky all'opposto cioè però bisogna assumere la responsabilità di questo assumere il problema capire la cultura altrimenti che concludo altrimenti si fa come facevano i colonizzatori e missionari quali arrivavano nel 7 800 in una popolazione cosiddetta selvaggia che facevano li convertivano e in questo modo eliminavano anche una serie di costumi che per l'epoca erano considerati inaccettabili parliamo del cannibalismo ma la poligamia non so altri aspetti l'andare in giro nudi eccetera e dicevano che li civilizzano cioè applicavano dei parametri che ritenevano assoluti assolutamente giusti umani no in quel periodo dopodiché queste culture sono state completamente distrutte i nativi del nord america sono ridotti a miserabili straccioni alcolizzati da origini australiani sono quasi scomparsi quel poco che ne resta dello stesso tipo cioè in definitiva scusate la banalità quale culture di andarci piano perché se si ci se le si affronta con dei principi che si ritengono metafisicamente giusti e assolutamente giusti si corre il rischio di distruggerle magari certe cose si si correggono sì sì e anche fa se si fa bene ma per il resto poi che cosa accade anche la cultura classica è fragile se la si affronta con quest'idea preconcetta della giustizia di alcune cose e tutto il resto si corre il rischio di crollare di 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 scomparire come è successo delle culture vive bisogna andare piano con le culture vive ma anche con le culture morte perché le culture morte ugualmente possono essere distrutte provo a integrare con due cose che mi ero segnato perché infatti che sono molto d'accordo mi sembra che appunto si riproponga questa questa idea del cambiamento del punto di vista legato alle necessità dell'oggi cioè accettare pienamente che si cambia quasi continuamente discorso rispetto al passato non si cambia il passato si cambia discorso rispetto al passato proprio perché cambia la vita e urgono domande diverse di analisi e di indagini dello stesso passato questa cosa è riassunta fra fra gli appunti che avevo segnato in una recensione che uno dei nostri colleghi penso che sia americano colpi e aveva fatto un po di anni fa proprio affrontando il problema di decolonizing e cancel e lui citava due esempi di grandi intellettuali un europeo Wagner che diceva avrebbe voluto essere un greco nel teatro di dioniso anche per un solo giorno piuttosto che avere l'immortalità quindi l'idea di trasferirsi in questo mondo greco e l'altra forma invece è quella che disse proprio Martin Luther King il giorno prima di essere ucciso lui fece un discorso a Memphis il famoso discorso del del sogno se non mi sbaglio comunque in questo discorso a un certo punto parlo della Grecia antica anche questo segno appunto di una cultura che circolava e disse che gli sarebbe piaciuto andare in questa sorta di viaggio impossibile in Grecia e spostarsi sul monte Olimpo e gli sarebbe piaciuto vedere Platone Aristotele Socrate Euripide e Aristofane che discutevano intorno al Partenone e gli sarebbe piaciuto anche guardarli discutere intorno al Partenone sulle grandi sui grandi temi della vita e della realtà e però concludeva ma io non mi sarei fermato lì cioè l'idea di un impatto con la cultura antica ma puoi tornare nel mondo presente questo forse appunto il messaggio che allora io ricavavo da questa idea di rapporto con l'antico Martin Luther King cioè i problemi poi sono del presente si affronta il presente allora io rilancierei la domanda con la quale avevamo pensato questo incontro decolonizzare ma da chi io darei prima la mia risposta così lascio a te quella finale decolonizzare probabilmente da chi in qualche modo anche nel nostro campo diciamo di studi ha un po' colonizzato i classici nel senso di farne una prerogativa soltanto degli studiosi del mondo classico e non ha colto invece la varietà di modi possibili con cui si possono leggere diffondere e accettare ovviamente con le precauzioni che diceva Maurizio cioè non appunto della uso questa battuta dell'analogia come forma della comprensione storica che diventa una mancanza della compassione storica appunto io non conoscevo questa idea della della anestesia del cuore cioè l'idea della compassione manca sostanzialmente quando si punta soltanto a una a una comprensione storica allora ci sono probabilmente degli studiosi del mondo classico che hanno sostituito un non più proponibile classicismo che ormai nessuno più difende cioè l'idea che ci sia stato un mondo abbastanza perfetto di valori eterni che si tratta soltanto di recuperare rendersi appunto modellarsi rispetto a questi valori ma hanno trasferito quest'idea di classicilvo al loro insegnamento nel senso di essere diventati i gli unici interpreti del mondo classico l'idea invece che lo stesso mondo classico i testi soprattutto dal punto di vista umano vadano ogni volta ripensati con competenza ma anche con grande umanità e forse la risposta a questo decolonizzare da chi è l'ultima risposta è la mia risposta è sostanzialmente la tua cioè in realtà vabbè posso aggiungere prima di tutto è chi decolonizza i classici che mi dà l'impressione di colonizzarli nel senso che li riduce alla sua misura proprio come dicevo faceva il missionario o il colonizzatore con le popolazioni africane o nordamericane che cercava di ridurre alla sua misura al suo standard distruggendolo quindi paradossalmente direi che è una cosa che io rovescerei completamente è questo atteggiamento di dicono naisin che è una colonizzazione bella e buona nel mondo antico e perché è perché il mondo antico in realtà tutta la cultura antica va sempre riscoperta come altra come diversa cioè quello che manca che è mancato e che questa anestesia classicistica ha impedito molto spesso di realizzare è proprio di affrontare il mondo antico nella sua diversità la sua diversità anche negativa come dicevo prima con la schiavitù o con la discriminazione nei confronti delle donne o con la violenza il sangue l'uccisione come divertimento ci sono aspetti forti fondamentali della cultura romana e quindi aspetti per noi profondamente negativi che devono essere affrontati e studiati ma anche nelle sue diversità che sono diversità di grande interesse cioè il fatto che già presso i greci e presso i romani si vedano sorgere questi principi umanitari profondi come dare l'acqua a chi la chiede dare il fuoco a chi la chiede soppellire il morto porgere la mano al naufragolo cioè queste sono quelle regole classiche che poi non più di quattro cinque tre quattro anni fa abbiamo visto negare il palese venente addirittura da un ministro dell'interno che non voleva porgere la mano al naufragolo ma addirittura respingere il naufragolo dalle 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 coste ecco questo come dire sono aspetti della cultura classica che ci devono far riflettere in positivo cioè attenzione che già l'eneide era più avanti di quanto siamo adesso noi in questo momento storico dell'italia quando si descrive il naufragio dei dei troiani sulle coste di cartagini che ricevono un'accoglienza ben diversa da quella che noi purtroppo spesso abbiamo riservato e riserviamo ai naufraghi quindi come dire cogliere tutti questi aspetti appassionanti interessanti diversi del mondo antico che sono anche per certi standard negativi ma che vuol dire c'è la storia apposta c'è l'antropologia apposta vogliamo rinunciare a tutto questo per un'ideologia perché questo è una semplice ideologia come ce ne sono state tante altre che vogliono appiattire tutto su un solo schermo questo no questa è anti intellettuale per per definizione quindi se dobbiamo decolonizzare i classici dobbiamo decolonizzarli da un lato da chi attualmente li vuole decolonizzare e dall'altro da questa anestesia classicistica che rende tutto ovvio tutto normale tutto semplicemente una questione traduzione tradurre bene di ricapire riconoscere la sintassi non lo so ecco questi sono francamente colonizzazioni piuttosto pesanti per una cultura come quella antica